Ersus Assari e ATP insieme per migliorare i servizi agli studenti con un numero di abbonamenti maggiore e il miglioramento delle linee per raggiungere la mensa. Continuano i disagi in via Diaz dopo il dimezzamento della carreggiata e l'installazione del cordolo per far spazio le bici ora crolla anche l'asfalto. L'amministrazione comunale e la Proloquo di Stintino hanno organizzato una pasqueta in città con manifestazioni, concerti e spettacoli ludici e di cabaret. TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura l'avete sentito dai titoli. Partiamo da Sassari e da una notizia che riguarda gli studenti universitari. L'Ersus insieme alla ATP di Sassari, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, ha incrementato lo stanziamento che abbatte il costo degli abbonamenti riservati agli studenti che utilizzano i servizi di trasporto pubblico in città. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Luca Fodai. Sinergia tra Ersu e azienda trasporti pubblici che nei mesi scorsi hanno avviato un dialogo con l'obiettivo di rendere ancora più efficienti i servizi offerti alla popolazione studentesca fuorisede, pendolare e residente in città. L'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari ha innanzitutto incrementato lo stanziamento che abbatte il costo degli abbonamenti riservati agli studenti che utilizzano i servizi di trasporto pubblico in città, ma non solo. Da quest'anno l'abbonamento ha una durata di 12 mesi e non più di 10 come avveniva in passato. Sarà così garantito un servizio completo anche a chi non può tornare a casa nei mesi estivi. Siamo felici di aver trovato immediate risposte e grande apertura da parte dell'ATP e del suo presidente Roberto Mura. Grazie anche alla collaborazione del direttore generale Roberto Pocci siamo riusciti in poco tempo a dare nuove risposte ai nostri studenti, sottolinea il direttore generale dell'ERSU Antonello Argittu. Un prossimo passo che si concretizzerà nel brevissimo periodo sarà il miglioramento delle linee da e verso la mensa di Via di Mille. Chi studia nei dipartimenti più decentrati godrà di percorsi più agevoli rispetto al passato. Un ulteriore dialogo si sta aprendo anche per garantire un collegamento migliore con i campi sportivi del CUS a San Giovanni. Restiamo a Sassari, parliamo di reti idriche. Si concluderà nei prossimi giorni l'intervento delle squadre di Abanoa in Vicoro Luzzati dove sono state rifate le reti fognarie e idriche. A breve infiltrazioni e dispersioni saranno un ricordo lontano. Luca Fodai. E' in fase di completamento l'intervento delle squadre di Abanoa nel centro storico di Sassari in Vicolo Luzzati. La società idrica isolana con un impegno economico pari a circa 30 mila euro su nuove condotte fognarie e idriche sta portando a termine i lavori che consentiranno di mettere la parola fine a infiltrazioni e dispersioni e che permetteranno il ripristino regolare dell'erogazione. All'iniziale intervento urgente che avrebbe riguardato unicamente la vecchia fognatura si è aggiunto il rifacimento della condotta idrica. Gli operai di Abanoa, una volta effettuato lo scavo, hanno constatato lo stato della condotta talmente rovinata da non riuscire più a garantire portata e pressione. Si è così deciso di procedere con un intervento integrale che comprendesse anche la nuova tubazione idrica. In entrambi i casi le reti, corrose dal tempo e di almeno 50 anni, sono state sostituite da nuove tubature. I lavori in vicolo Luzzatti hanno preso il via il 3 aprile e termineranno entro il prossimo fine settimana. Siamo sempre a Sassari e torniamo a parlare di piste ciclabili. In via Diaz si erano appena conclusi i lavori, si era proceduto anche al collaudo ma non si era spento l'eco delle polemiche ed ecco che nell'asfalto della carreggiata riservata alle auto si apre addirittura una voragine. Sentiamo il servizio di Sandra Sanna. I lavori in via Diaz si erano conclusi appena un mese fa, mentre il collaudo era stato effettuato nelle scorse settimane. Ma l'odissea continua e ieri pomeriggio, poco avanti l'incrocio con via Alghero, si è aperta una voragine nella carreggiata riservata alle auto. Immediato l'intervento comunale che ha provveduto a transenare la strada che è stata interrotta sia alle auto che alle bici. E mentre le squadre di Abanoa sono già al lavoro per sistemare il danno alle tubature, scoppia la polemica sulla qualità dei lavori appena conclusi, sul fatto che non si è tenuto conto della struttura del sottosuolo che già in passato aveva mostrato tutte le sue carenze. Infatti in via Diaz, sempre angolo via Alghero, il manto bituminoso era già sprofondato ancora prima che iniziassero i lavori della pista ciclabile e poco più avanti il nastro d'asfalto sta mostrando i primi segni di cedimento, quindi non solo disagi per quanto riguarda il fatto che la carreggiata è stata dimezzata, che è stato posto un cordolo pericoloso per marmite e cerchioni, che sono stati dimezzati i parcheggi, che i mezzi di soccorso hanno grosse difficoltà. Ora anche l'asfalto che cede, che ci sia qualcosa che non va bene? E sul tema è intervenuto questo pomeriggio in apertura della saluta del Consiglio Comunale l'assessore alle infrastrutture della mobilità Antonio Piu, che ha risposto alle segnalazioni presentate dagli esponenti di maggioranza Francesca Arcadio e Marco Manca. Non c'è nessuna correlazione tra i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e il cedimento dell'asfalto nella corsia di marcia in via Diaz. Si tratta di una vecchia condotta fognaria sulla quale il comune non è competente. Ea Banoa sta già intervenendo a sue spese, ha spiegato all'assessore che ha aggiunto il cordolo è una novità per Sassari, in quanto tale ha bisogno di essere assimilata. Si tratta di un cambio culturale, quello legato alla mobilità sulle biciclette che ha bisogno di tempo. Una volta che l'intera infrastruttura delle piste ciclabili sarà ultimata, vedremo se e quali modifiche introdurre. La mia tranquillità da amministratore deriva dal fatto che sono state osservate le leggi, ma comprendo le osservazioni sul restringimento della carreggiata e su tutte le altre problematiche emerse finora. Così dunque ha concluso l'assessore Antonio Piu. Passiamo invece alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Tempio Pausania hanno arrestato un nigeriano di 26 anni, Vincent Confidence, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari raggiunta la struttura di accoglienza dove l'uomo risiede a seguito di una chiamata al 112 hanno bloccato l'extracomunitario mentre si opponeva all'allontanamento della sua compagna del figlio di un anno. Disposto dalla Tribunale per i minorenni di Sassari per tutelare l'incolumità della donna e del suo bambino, seguito di lamentati precedenti maltrattamenti da parte del nigeriano. L'intervento dei carabinieri ha consentito di evitare un diverso epilogo alla vicenda di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico con il quale l'arrestato avrebbe minacciato la donna. L'uomo è stato arrestato e tradotto alla casa di reclusione di Tempio Pausania. Nugis a disposizione dell'autorità giudiziaria, le lesioni riscontrate dai sanitari al collo della donna sono state giudicate dai medici guaribili in dieci giorni. Torniamo alla politica. Il partito dei Sardi ha inaugurato a Sassari una nuova sede che negli intenti dei coordinatori vuole essere un punto di riferimento in città per il dialogo tra i cittadini e la politica. Presenti all'incontro di inaugurazione il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il presidente del partito Paolo Maninchedda e la coordinatore cittadino Ottavio Sanna che abbiamo intervistato. Sentiamo. Il partito dei Sardi cresce, forse unico nel panorama dei soggetti politici che fanno parte della coalizione al governo dell'isola e dalla sua nascita tre anni fa non ha perso l'impulso per un'attività programmatica e per iniziative culturali nel solco dei principi del partito che lotta per uno stato sardo indipendente. A Sassari per iniziativa del coordinamento guidato da Ottavio Sanna e della base è nata in una nuova sede del partito in via Manno all'angolo con via Enrico Costa dove un appartamento al primo piano ospiterà gli incontri del partito ma soprattutto sarà, assicurano, un punto di riferimento per dibattiti politici e culturali nella città. Ottavio Sanna è il coordinatore cittadino del partito dei Sardi. Vogliamo cambiare la tendenza perché ovviamente i social network sono un'opportunità e vanno governati ma noi siamo un partito che ha necessità di dialogare con i cittadini, con le persone, con le imprese, con i professionisti e quindi avere una sede, metteremo sicuramente la nostra sede a disposizione per tutte queste persone, tutti questi soggetti affinché si crei pensiero nella nostra città e nel nostro territorio, affinché si crea cultura e quindi avere una sede nel centro della nostra città e soprattutto avere una sede a Sassari, nella seconda città della Sardegna per il partito dei Sardi è anche un punto di orgoglio perché da Sassari vogliamo partire per un progetto per la nascita della nostra Sardegna e del nostro Stato, lo Stato appunto sardo. All'inaugurazione della sede erano presenti il sindaco di Sassari, Nicola Sanna e il presidente del partito dei Sardi, Paolo Maninchedda. Ed ora una buona notizia che riguarda gli allevamenti sardi, in arrivo 16 milioni per il comparto agricoltura da spendere per il benessere animale, si tratta della liquidazione dell'85% dell'anticipazione della misura 14 del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sentiamo i dettagli. L'Agenzia Nazionale per l'erogazione in agricoltura ha firmato il decreto per il pagamento di oltre 16 milioni di euro sul benessere animale 2016. Questo significa che stanno per essere saldate dalla Banca d'Italia 6.122 domande arrivate da aziende agricole della Sardegna. Le liquidazioni coprono l'85% dell'anticipazione sulla misura 14 del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Una notizia importante che arriva dal sollievo a migliaia di aziende in un momento particolarmente difficile per gli allevatori, commenta così l'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria. Dopo l'incontro di un mese fa con il ministro Maurizio Martina a Roma, le interlocuzioni con la GEA e il Mipaf sono costanti, così da far liquidare il primo possibile pagamenti agricoli dovuti ai nostri imprenditori. Intanto nel 2017 e fino ad oggi sono stati mandati in pagamento per agricoltori e pastori sardi 60.265.770 euro, mentre dal 1 gennaio 2016 a oggi il totale dei premi liquidati in Sardegna è pari a 194.755.611 euro. La misura 14 sul benessere animale vede la regione Sardegna fra i pionieri in radiazione dello strumento, interessa il comparto vino, bovino da latte e da carne e per la prima volta in assoluto in tutta Europa il settore sui nicolo. A partire dalle 16 di oggi a Martis, paese natale di Vincenzo Migaledu, si sono svolte le celebrazioni di commiato al medico ambientalista. Un primo incontro si è tenuto nel centro di aggregazione del paese, dove Migaledu è stato ricordato dalle istituzioni locali e da alcuni amici. La poetessa Clara Farina ha dedicato al medico alcuni suoi versi. Le esecue si sono invece svolte nella chiesa parrocchiale di Martis. Circa un migliaio di persone ha partecipato alle celebrazioni. Cambiamo argomento, passiamo alla pagina di cultura. Nel fine settimana a Porto Conte si sono svolte le prime iniziative del ciclo Emozioni di Primavera. Nella casa del parco l'inaugurazione ufficiale della mostra permanente di Elio Pugli e la presentazione del libro su Principeddu. Sentiamo Marco Sanna. Lo scorso fine settimana è ufficialmente decollata l'iniziativa Emozioni di Primavera, il programma di manifestazioni ed eventi primaverili che hanno come centro logistico il parco di Porto Conte, dove, nella casa gioiosa, si è inaugurata ufficialmente la mostra di Elio Pugli e il relativo progetto didattico ed educativo dedicato al piccolo principe. Il celebre libro di Sant'Exuperi è stato di recente tradotto in sardo da Luciano Goddi, scrittore che insieme al maestro Pugli è stato il protagonista dell'incontro. Oltre 300 le persone che hanno seguito l'evento inaugurale. Con la presentazione del libro, commentato nel dibattito dai docenti Alma Casula e Giorgio Pellegrini, esperti di arte, e con la moderazione del giornalista Pasquale Porco. Una suggestiva performance live ha accompagnato l'inaugurazione della mostra. Con musica originali del compositore è già maestro al Teatro della Scala di Milano Stefano Salvadori e regia del coreografo Max Campagnani. Il vestito della ballerina Arianna Balestrieri è stato dipinto in live dal maestro Pugli. Con questa iniziativa culturale, ha sottolineato il presidente del parco Luigi Cella, il parco di Portoconte intende potenziare il suo approccio all'educazione ambientale a favore dei giovani, immersivo ed emozionale. Il filo conduttore di questo nuovo approccio trae spunto dal famoso libro dell'autore del Piccolo Principe che visse ad Alghero durante la Seconda Guerra Mondiale. Il rito del lunisanti si perde nella notte dei tempi ma conserva intatto quel misto tra mistero e devozione che si respira a Castel Sardo. Tradizione e fierezza di una comunità che si riflette in questa antichissima rappresentazione. Sentiamo Ico Ribichesu. Da sempre il lunisanti di Castel Sardo ha tirato migliaia di fedeli e di visitatori nel borgo medievale. La manifestazione popolare è unica nel suo genere che affonda le sue radici nel Medioeva e nelle sacre rappresentazioni. Nata con i monaci benedettini e perpetrata nei secoli a venire dai laici nella fattispecie ai membri della confraternita di Santa Croce. Una sintesi del sentimento popolare che fa rivivere con gli apostoli, con fratelli prescelti per portare i misteri, e li cantori, componenti ai tre cori che alternano l'U Miserere, l'Ustabat e l'Uiesu, canti che accompagnano la processione, illuminate solo da fiaccole i lumini posizionati nel percorso. Gli strumenti della passione di Gesù e il silenzio che accompagna questa serata riportano indietro i pensieri e si respira un'aria differente. Nella solennità del rito e per gli abitanti di Castel Sardo questa festa rappresenta una vera identità culturale ed è il simbolo ancestrale di orgogliosa appartenenza alla propria terra. E ora ci spostiamo a Stintino per Pasquetta. L'amministrazione comunale e la Proloco organizzano grandi manifestazioni, concerti, spettacoli ludici e di cabaret allieteranno il lunedì dell'Angelo di turisti e visitatori. Mauro Fancello, Argentino Tellini. Stintino lancia la stagione salutata da un sole splendido e un'atmosfera da sogno. L'amministrazione comunale e la Proloco locale per il giorno di Pasquetta stanno organizzando una serie di manifestazioni che accontenteranno tutti, grandi e piccini, concerti, spettacoli ludici e di cabaret allieteranno la giornata dei turisti e dei visitatori, come ci spiega con soddisfazione, la responsabile della Proloco, Maria Giovanna Mura. La stagione di Stintino inizia appunto con la manifestazione di Pasquetta organizzata dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale e sarà un pomeriggio di allegria e musica per le vie di Stintino. Quindi si inizierà dalle 16 con Cocinella, con uno spettacolo per bambini. Seguiranno dei gruppi musicali e un gruppo di cabaret. La musica sarà dal largo cala d'oliva alle vele di pietra, che è una location molto suggestiva sul Porto Vecchio, con i gruppi musicali Santa Fe Cover Garden, il DJ Pauz e poi un po' di cabaret con i tre amici immaginari. Nel frattempo alla pelosa, gemma incastonata nel golfo dell'Asinara, spuntano i primi turisti. Qualcuna zarda una salutare passeggiata nel mare limpido e turchese. Un tranquillo labrador gradisce la sabbia bianchissima a fianco dei suoi padroni, mentre il cielo azzurro si scioglie nella battigia. A Stintino tutto è pronto per il lunedì dell'Angelo. Ad accogliere i turisti sarà il rumore soave delle undicine increspate da un inebriante soffio di maestrale. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. In primo piano il calcio e la pallacanestro femminile. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. Partiamo dal calcio. Il latte dolce dopo la vittoria esterna conseguita a Trestina vede la salvezza nel campionato di Serie D molto vicina. Altre quattro partite e poi subito in cantiere la squadra che dovrà disputare il prossimo campionato. Possibilmente con meno patimi d'animo che in questa stagione non sono mancati. Sentiamo il Corrivi Chiesu. Dopo la vittoria ottenuta a Trestina il latte dolce si appresta a vivere con meno ansia il suo prossimo futuro. Dando per scontato che il prossimo turno le vedrà assegnati tre punto a Tevolino per la defezione del Foligno, dati alla mano rimangono altre tre gare fino alla fine del campionato. Due trasferte molto insidiose contro Monterosi e L'Aquila e una gara interna contro il Rieti che cercherà fino alla morte un risultato pieno per l'eventuale promozione in Lega Pro. Il sodalizio bianco celeste sta per coronare l'obiettivo che si era prefissato ad inizio stagione e guarda con attenzione alla crescita dei suoi giovani calciatori che come ogni anno stanno mietendo successi in campo regionale per ciò che concerne il calcio giovanile. Parliamo ora di pallacanestro femminile. La Tecmar Crema ha sbancato la Mercedes Alghero per 61-83 nella 25esima giornata del girone A del campionato nazionale di serie A2. Sentiamo. La Mercedes Alghero ha salutato il proprio pubblico con una sconfitta. Nel match valido per la 25esima giornata del girone A del campionato nazionale di serie A2 di pallacanestro femminile, la Tecmar Crema ha sbancato il palacorbia per 61-83. La squadra ospite, quarta della classe, ha condotto il risultato per l'intero match, forte dello 0-10 di partenza. Ma le ragazze di coach Manuela Monticelli ha comunque tenuto bene il campo contro la più quotata avversaria. Top scorer del match, la lettone di Crema, Eva Weinberga, autrice di 19 punti. Doppia-doppia per Martina Picotti, 15 punti e 11 rimbalzi, 14 punti per Francesca Parmesani e 13 per Paola Caccialanza. In casa Mercedes prestazioni monstre per l'ala algherese classe 1999 Viviana Manconi. Per lei 15 punti in 23 minuti con 3 settimi da 2 e 3-3 da 3. Doppia-doppia per Alexandra Petrova, 11 punti e 22 rimbalzi e 11 punti per Chiara Flauret. La Mercedes chiuderà la stagione mercoledì con il derby regionale in programma sul campo della San Salvatore Selargius. E con questo servizio si chiude qui questa edizione. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora. Io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto. Non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, ora spazio alle notizie nazionali. Curate l'agenzia di stampa ADN Cronos, ma rimanete insieme a noi perché c'è una puntata imperdibile, la tredicesima puntata di Aspiri News, il Tg satirico a cura di Aspiri. Quindi restate con noi anche dopo il telegiornale che torna invece domani come sempre alle 19.45. Io vi aspetto, vi ringrazio la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie.